La siccità non accenna a diminuire nella regione Marche. Una situazione problematica sotto tanti punti di vista e contrastanti, afferma l'assessore regionale Stefano Aguzzi, perché alcune zone come l'Ascolano e il Pesarese soffrono della mancanza di acqua, ma nello stesso momento le Marche sono in allerta gialla in vista delle precipitazioni nelle prossime ore. Nella nostra provincia, quella di Pesaro e Urbino, già dagli inizi di agosto è stata necessaria l'apertura del Pozzo del Burano di Cagli per far fronte alla crisi idrica e garantire l'approvvigionamento idropotabile alla popolazione. Nel Pesarese, dove effettivamente servirebbe una buona pioggia, diciamo così, per rimpinguare i nostri corsi d'acqua, il fiume Metauro, dal quale noi ci approvvigioniamo per l'acqua potabile, sia per Fano che per Pesaro, e invece in questo caso qui da noi continua a non piovere o piovere molto lievemente. Anche ieri qui a Fano ha fatto una forte pioggia nel pomeriggio, durata poco, ma nell'immediato introterra, io vivo a Bellocchi, non è che vivo molto lontano dalla costa, non è più tutto per niente, ha appena due gocce che ha appena bagnato il terreno. Quindi il nostro fiume continua effettivamente a soffrire. Stamattina c'è stato il Comitato Provinciale di Protezione Civile, dal quale io sinceramente speravo e avevo anche dato questa indicazione che si potesse iniziare a ridurre la portata del Pozzo del Burano, che rimpinga il nostro fiume Metauro, a monte ovviamente, per poter poi prelevare l'acqua a valle e per essere potabilizzata e immessa negli acquedotti. Attualmente noi abbiamo 300 litri al secondo al Pozzo del Burano e 150 litri dal Pozzo di Sant'Anna di Fossombrone, che rimpingono appunto il nostro fiume. Quindi noi non viviamo un'emergenza idrica, nel senso che l'acqua arriva nelle case e continuerà ad arrivare, non c'è questo tipo di problema. L'unica cosa è che prelevando la maggior parte dell'acqua dall'acqua di superficie, quindi dal fiume, del fiume Metauro, se non piove e anche durante l'inverno scorso non è nevicato mai, il fiume va in sofferenza. Quindi le attuali invasi, quello del Furlo, quello di San Lazzaro di Fossombrone, quello di Tavernella e di Coglia al Metauro, sono in sofferenza. Con l'apertura, ormai da una settimana del Pozzo del Burano, quello del Furlo si sta abbastanza riempendo, quello di San Lazzaro sta crescendo, l'unico che continua un po' a soffrire ancora è quello di Tavernelle, ma diciamo il meno significativo perché il grosso dell'acqua viene prelevata da San Lazzaro di Fossombrone. Quindi per il momento si sono lasciati i 300 litri al secondo dal Pozzo del Burano, ma giovedì mattina, quindi tra tre giorni, si riunirà di nuovo il Comitato di Protezione Civile ed io sono abbastanza fiducioso che lì si potrà andare ad una netta riduzione, ho già dato questa indicazione, se ci saranno le condizioni, per andare ad una netta riduzione anche del 50%, speriamo, questo poi lo vediamo giovedì, anche perché speriamo stasera e stanotte dovrebbe piovere anche su questa provincia. Quando dico speriamo dispiace anche dirlo per chi magari opera nel turismo eccetera, ma l'acqua serve, serve indiscutibilmente. Quindi oggi, stasera e stanotte, fino a domani mattina, è prevista una pioggia abbastanza significativa, non dovrebbero esserci, speriamo perlomeno, eventi eccezionali, ma però una pioggia significativa. Se questa pioggia significativa avviene anche nel nostro entroterra, non solo magari sulla costa, gli invasi potrebbero essere subito rimpinguati, unito al Pozzo del Burano, unito al Pozzo di Sant'Anna, per giovedì potremmo avere gli invasi con una sufficienza tale da poter andare, diciamo, non a chiudere ma magari a ridurre fortemente il flusso dei pozzi di profondità.